Salve a tutti giocatori e bentornati in un nostro nuovo video Oggi andiamo a parlare delle 3 carte speciali che erano incluse nel 25esimo anniversario Ultimate Kaiba Set Ovvero la valigetta di cui abbiamo parlato con dentro 58 carte più 3 nuove carte Quindi un totale di 61 carte ultra rare e appunto tutte carte che sono state utilizzate da Seto Kaiba Verrà rilasciato esclusivamente in Giappone questo set in aprile 2022 C'è il pre-order tra settembre e ottobre mi pare e ovviamente esclusiva giapponese Andiamo a vedere le 3 carte, probabilmente queste 3 carte verranno introdotte poi in chissà quale set Ma comunque verranno introdotte e c'è anche un supporto esclusivo per Obelisk Quindi molto contenti, molto contenti No vabbè in realtà non è niente di che Allora partiamo con la prima carta che è la famosissima armatura dell'attacco guidato Utilizzata tantissime volte da Kaiba contro Pegasus nel film Nel Colosseo contro Yogi mi pare l'ho utilizzata anche lì Cioè l'ho utilizzata praticamente quasi sempre E andiamo a vedere Qual è l'effetto in real Perché dopo 15 anni c'è questa carta Allora Quando viene un mostro dell'avversario Dichiara un attacco Possiamo attivare uno dei seguenti effetti Una volta per turno O distruggere un mostro attaccante Oppure targettare un altro mostro che l'avversario controlla E dirigere l'attacco su quel mostro Il secondo effetto è uguale a quello dell'anime Il primo invece è totalmente nuovo È un po' tipo l'armatura di sicurezza Soltanto che questa carta non targetta Più che altro è una carta molto bella Per chi Cioè è molto bella Perché l'attacco è molto È fatta veramente bene È una di quelle carte che Appassiona molto Chi ha amato Kaiba Oppure l'anime all'inizio Poi l'altra carta Trappola continua È Lifeshaver Possiamo controllare soltanto Una di queste carte Sul terreno Una volta per turno Durante l'end phase L'avversario Piazziamo un segnalino su questa carta Durante l'anime phase O battle phase Se questa carta ha un qualsiasi numero di segnalini Possiamo mandarla al cimitero E l'avversario scarta carte Pari al numero di segnalini Che questa carta aveva Quando è stata mandata al cimitero L'effetto non sarebbe neanche tanto male Perché comunque tu fai scartare carte all'avversario Soltanto che la carta trappola Deve attivare al turno dopo Si attiva durante l'anime phase del turno Il fatto di piazzare Counter In un mazzo come una mistica Forse avrebbe un suo senso Ma non la vedo molto molto forte Cioè il testo che ti dice Che l'avversario scarta carta in base ai segnalini Ti fa pensare Oh mio Dio è fortissimo Però invece in realtà È molto È molto lenta come carta Ultima carta Che è esclusiva per Obelisk È il Magical Trick Mirror Carta trappola normale Quando un mostro dell'avversario Dichiara un attacco Possiamo targettare una magia Nel cimitero dell'avversario E settiamo quella carta Sul nostro terreno Può essere buona in qualsiasi situazione Ma soprattutto per questa Che andremo a vedere adesso Possiamo bandire questa carta Dal cimitero Per mandare un mostro Reborda dalla mano Oppure coperto Sul terreno Al cimitero Per evocare specialmente Un Obelisk Dal cimitero In posizione di difesa Se l'effetto È stato attivato Durante il turno Dell'avversario L'avversario È costretto Ad attaccare Con tutti i suoi mostri Il nostro Obelisk Ovviamente Sono possibilitati Ad attaccare Praticamente Ti fai Tra molte virgolette Un OTK Facendo schiantare I mostri dell'avversario Contro Obelisk Il fatto Dell'effetto precedente Di settare una magia Dal cimitero all'avversario È praticamente Prenderli in mostro Reborn E posizionarvelo Però col fatto Che sono limitati È un po' difficile Va bene Che è una carta Che tutti i mazzi Giocano Però comunque Rimane difficile Averla E diciamo Che è una carta Esclusivamente Per Obelisk Ma non è che sia Questa Questa grande Carta Poi andiamo a vedere Una carta speciale Della Della serie Animata Della serie animata Non so se è soltanto Un manga È solo un manga Lo CG Structures Che è praticamente Un manga Sempre di Yu-Gi-Ohio Lo Starry Knight Che è un mostro Rank Fata Di rank 4 Possiamo Diutare l'effetto Una volta Per turno Possiamo Staccare Un materiale Di questa carta Spaggia un mostro Luce Dalla nostra Mano Se questa carta È al cimitero Certo il turno E questa domandata Possiamo targettare Un mostro Livello 4 Luce Fata Che controlliamo Spaggiamo Questa carta E se lo facciamo Attacchiamo il target A questo Questo mostro Carta Molto carina E poi La V-Prom Jump Card Che Non si sa ancora Che cos'è È sempre Per il 25esimo Anniversario Della serie Animata Del manga E questa volta Questa è dedicata Al Dark Magician Come se il Dark Magician Avesse bisogno Di carte Da dedicare Dato che Ce ne sono mille e mila Allora Queste erano le carte Di cui dovevamo parlare oggi E Fatemi sapere sempre Cosa ne pensate Noi come al suo video Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti